I carabinieri della stazione di Mati hanno arrestato per coltivazione e produzione di droga un italiano di 34 anni. Travestiti da ciclisti e runner al termine di un prolungato servizio di osservazione, hanno sorpreso l'uomo mentre legava un terreno agricolo attivo alla propria abitazione una piantagione di marijuana, composta da 387 piante di altezza tra i 2 cm e i 3 metri. La perquisizione a casa ha permesso di sequestrare 200 g di marijuana già essiccata e pronte per lo spaccio e 30 g di hashish. L'uomo è stato collocato ai domiciliari. Grazie. Grazie.